E dopo 26 giornate di campionato in eccellenza il Trento vince, vince con 4 turni di anticipo sulla termine della stagione e conquista la Serie D, ci ritorna dopo 4 anni di assenza Trento che ha vinto il match di recupero contro la Piano nella serata di giovedì e dunque ha conquistato la matematica certezza di essere il campione di questa stagione 2016-2017. Nella notte però dei festeggiamenti già una prima difficoltà, una prima nuova difficoltà per il calcio Trento, un blitz dei ladri al Bria Masco che hanno provocato danni ed ammanchi per almeno 10.000 euro, vediamo. Il Trento ritorna in Serie D, un finale che già si conosceva ora si può dire, ma si sa che il campionato comunque bisogna giocarselo, le partite bisogna vincerle e il Trento lo ha fatto e con 4 turni di anticipo giovedì sera, vincendo nel recupero del match contro la Piano, si è laureato campione della stagione 2016-2017 conquistando la Serie D da dove mancava, da 4 anni. Un ruolino di marcia quasi perfetto con 24 vittorie in 26 partite, quelle giocate fino ad oggi ovviamente e due pareggi, 82 gol segnati, 19 subiti, quando si dice che per vincere ciò che conta è la difesa. Giovedì sera contro la Piano dicevamo è finita 4-2 per gli Aquilotti che hanno potuto così festeggiare al termine dei 90 minuti un successo al quale patron Mauro Giacca puntava fin da quando, quasi tre anni fa ormai, rilevò il calcio Trento e lo risollevò dal fango dove era sprofondato. Soltanto tre anni dopo il Trento si riprende la scena del calcio regionale ed ora si appresta ad affrontare il sempre difficile palcoscenico superiore, quello della Serie D, ma si sa che Giacca non si accontenterà. Ha già parlato di una stagione da vivere al vertice, anche la prossima il Presidente non ha mai fatto mistero di puntare alla Serie B, ma di strada da fare per arrivare a questo ce n'è e molta, le difficoltà sono sempre dietro.